A Ballando con le stelle chi si aspettava scintille tra Selvaggia Lucarelli e Anna Luca Stoldi è rimasto sorpreso. La ragazza, che partecipa al programma di Mili Carlucci in coppia con Nikita Perotti, è la figlia di Morgan e Asia Argento. E in passato ci sono state scintille tra la giornalista e giudice del dancing show e il papà e la mamma della giovane. In particolare con la figlia di Dario Argento c'era stato uno scontro proprio a Ballando. Con tutti i suoi tatuaggi, i piercing, mi è sembrata la più normale finora qui dentro. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli dopo la positiva esibizione di Anna Luca Stoldi. Poi è arrivata, immancabile, la battuta con frecciatine, rischi di essere l'unica che mi sta simpatica della tua famiglia. Davvero, una cosa incredibile. Proprio nella serata di ieri Selvaggia e Asia si sono ritrovate di nuovo faccia a faccia. Sia Morgan sia Asia Argento sono passati sotto l'inflessibile giudizio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Ed in entrambi in casi si sono, effettivamente, viste le… stelle. Nel senso di scontri e litigate epocali, stellari appunto. Nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, Asia e Selvaggia si sono incontrate di nuovo. L'attrice fa parte del cast fisso del programma di Piero Chiambretti e donne sull'orlo di una crisi di nervi e la giornalista ha rilasciato un'intervista. Selvaggia è andato subito al dunque. Anna Lu è fantastica, non so come sia sopravvissuta con due genitori così ma è incredibile, è una ragazza resiliente. A quel punto Asia Argento ha replicato, l'ho cresciuta praticamente da sola. E l'ospite ha sottolineato e si vede, sancendo in modo eclatante la pace tra le due dopo gli screzi passati. È passata tanta acqua sotto i ponti, ha spiegato Asia Argento, e ci siamo anche divertite. Tutto finto? Assolutamente no. Sentirmi giudicare dopo un ballo, tutta sudata con le paillettes non è una situazione psicologicamente buona. Poco dopo Selvaggia ha ricordato un altro aneddoto. La tua tarantella resterà nella storia. Ho fatto la tarantella? L'avevo proprio rimossa, ha affermato Asia ridendo. Che dire, una volta tanto, in tv è scoppiata la pace. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.